ed eccoci alla seconda serie in prima Alice Pagliari, due Arianna Piovani, tre Alice Radhaelli, quattro Gaia Sava, cinque Francesca Rolla, sei Gaia Rota, sette Sara Beninca, otto Alice Rizzini. Grazie a tutti. Cento stile libro junior maschi millenovecentonovantanove, la medaglia di bronzo Matteo Lamberti, gam team, argento Alessandro Sperotto, team Veneto, medaglia d'oro Davide Nardini, Olympic Swim Pro. Uno dodici e novantadue nel fra...